Ecco qua, stiamo entrando da Midlander, ha aperto ieri e vediamo che tipo di locali so che hanno 15 spine, viene fatta l'inaugurazione quindi sicuramente sono stanchi morti, vediamo le spine, 15, tutte le birre rite sulla lavagna, l'Oderbuck, le crure, le sciocchette, una l'Oderbuck, le sciocchette, ieri e 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 ieri so, so you think you can tell heaven from hell. Blue skies from pain, can you tell it'd be free from a cold steel rain, a smile from a veil, do you think you can tell, did they get you to trade, your heroes for ghosts, hot ashes for dreams, hot air for a cool breeze, come on come with the change, did you exchange, and walk on part in the wall, to the lead role in a cage? music says Grazie a tutti.